Una domanda gliela voglio fare sull'autismo. Dobbiamo dire che è una malattia che sta crescendo e che in realtà forse oggi ci vuole maggiore attenzione verso queste persone a partire dai bambini. L'autismo che è una malattia specifica, riconosciuta da ormai decenni, è molto rara. Oggi come sistema di prevenzione si parla di autismo in maniera impropria ma è più che altro lo spettro autistico, è la sindrome autistica di cui noi parliamo. Cioè noi osserviamo come pediatri, come specialisti, come neuropsichiatri infantili, osserviamo alcuni segni che potrebbero essere premonitori di una malattia autistica. Allora interveniamo, ne parliamo in maniera preventiva. Spesso il ritardo di linguaggio, che è una delle presentazioni più anomale dell'autismo, prima veniva considerato una normalità. Il bambino che iniziava a parlare a 24-36 mesi, oggi noi stiamo più attenti, perché è giusto che sia così, se potesse essere un segno premonitore. Però i dati sull'autismo, se ne parla tanto, si conoscono più la patologia specifica, i numeri statistici sono sempre gli stessi. E naturalmente mi lancia, immagino, la domanda che mi faccio da solo, se i vaccini possono provocare la sindrome autistica. La malattia autistica è una malattia genetica, familiare sicuramente, ma è genetica, per cui la slatentizzazione della malattia, cioè la presentazione della malattia autistica, statisticamente avviene dopo che si iniziano i cicli vaccinali. Quindi qualcuno voleva correlare la vaccinazione con l'autismo. Questo è scientificamente smentito, con studi retrospettivi, si chiamano Cochrane, sono raccolte di milioni e milioni di dati su bambini vaccinati e la presentazione dell'autismo ed è scientificamente provato che non c'è nessuna relazione. Quindi il messaggio rimane quello, vacciniamo al di là delle leggi, dell'obbligatorietà, perché la vaccinazione è uno strumento di civiltà sociale. Grazie.